Ciao a tutte e benvenute e bentornate sul mio canale Fare e Disfare. Oggi il secondo video sulle mie borse. Questa volta vi faccio vedere le mie borse estive, anche se siamo in autunno, ma anche l'altra volta vi ho fatto vedere le borse invernali in primavera, o in primavera-estate, adesso non ricordo, ma ho fatto il cambio degli armadi per cui prima di portarle via le porterò in solaio. Ve le faccio vedere, tanto non contengono dei consigli per gli acquisti. Sono borse anche o anche delle borse che mi hanno regalato, una che ho comprato in un viaggio tantissimi anni fa per cui è solo così tanto per passare qualche minuto in compagnia. E parto subito appunto con un regalo. Questa borsa è stata fatta a mano da una mia carissima amica che ho visto forse solo una volta, ci siamo incontrate una o due volte, che ho conosciuto grazie al blog. Io tantissimi anni fa avevo questo blog dove pubblicavo ricette e i miei lavori a Punto Croce, perché ho fatto tantissime cose anche a Punto Croce. E ci siamo conosciute, appunto anche lei aveva un blog e un giorno, è un giorno, vedo un suo, vedo il suo ultimo post, dove mostra questa borsa bellissima, infatti le ho commentato e ho detto mamma che bella borsa e lei diceva che era per una sua amica, l'aveva confezionata per una sua amica. E io gli faccio complimenti, è bellissima, vorrei essere io l'amica che riceve questa, questa borsa. E niente, lei risponde ringraziandomi e finisce lì. Un giorno, ero una mattina, adesso non ricordo se era mattina o pomeriggio, vabbè, è ininfluente comunque, suona il campanello, io guardo dalla finestra perché, perché ero vicino appunto alla finestra lì dalla cucina dove posso vedere il cancellino e vedo questo, c'è un ragazzo che mi dice ma Antonella? E gli faccio sì. Ho un pacco, ho un pacco, un pacco per lei. Non aspettavo nessun pacco, non avevo, non avevo ordinato niente, cioè non lo so, allora sono scesa ed era una, una, una borsa di quelle tipo da regalo di cartone, mi ricordo ancora il colore per me era tipo arancio, arancio rossa e io l'ho presa. E niente, vado in casa e apro ed era la borsa del post con tanto di biglietto di, vi dico adesso, di chi di Tiziana che appunto aveva confezionato questa borsa per me e la persona speciale ero io. Beh vabbè non vi dico che sono rimasta, sono rimasta così a bocca aperta perché la borsa è molto bella, adesso ve la faccio vedere. Sono passati tantissimi anni ed è ancora, ancora uguale e niente, mi ha fatto un piacere immenso questa cosa e che qualcuno appunto abbia usato il suo tempo eccetera per, per confezionare qualcosa per me e soprattutto che mi ritenesse una persona speciale, per cui Tiziana se vedi questo video ti ringrazio ancora. E adesso ve la faccio vedere, eccola qua, eccola qua. È una borsa bellissima, ha anche questa, questo fiore, ovviamente tutto confezionato da lei e è confezionata in maniera stupenda, veramente, è fatta veramente molto 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 bene. All'interno è tutta foderata, ha fatto, ha messo anche queste palline per chiudere la cerniera, la cerniera che si chiude, per cui è anche molto comoda e ci sono le taschine interne, ci sono un paio di taschine interne e mi ha fatto anche la pochettina, cioè non so se vi rendete conto, è bellissima, è un po' impolverata, eccola qua. Io questa borsa la sto usando ancora perché secondo me è una di quelle, è una di quelle cose, è una di quelle borse di fantasie che vanno sempre, vanno sempre di moda. Bellissima, guardate anche il particolare del fiore con il bottoncino. E niente, questa la uso, ma la uso spesso, devo dire, perché oltretutto sono colori che io indosso in estate, per cui veramente bella questa qui, ci sono davvero molto affezionata. Altra borsa che mi è stata regalata, sempre da una amica, da una vecchissima amica, è questa che quanto pare era abbastanza famosa, sto togliendo i famosi sacchettini gonfi per tenerla in forma. Era molto famosa soprattutto nella riviera adriatica, che ho scoperto. Ed è veramente molto carina. E questa qua è la brandina, ed è fatta con il tessuto che viene usato per fare le brandine della spiaggia. Non è carina, è bellissima, tutta colorata. Ha questo, ha la sua tracolla, ecco qua, è attaccata dietro, una tracolla molto lunga, e anche con un pezzo di pelle, o simi in pelle, non lo so cosa sia, però ecco per metterla a tracolla senza farsi male. Ed è stracarina, l'ho usata molto spesso, anche perché è piccola, ma allo stesso tempo è molto capiente, ha anche la possibilità a due bottoni qua in parte, vedete, che la potete ridurre, esatto, può essere ridotta, però se ci mettete dentro qualcosa in più, si può allargare, e rimane bella, ed è bella capiente. E anche questa, questa taschina, sempre in rete, plastica, ma è veramente molto carina, sta molto bene, poi indossata, sta veramente molto bene, mi piace, mi piace un sacco anche questa. Ed ecco qua. Borsa, questa borsa qui invece, anche questa ci sono molto affezionata perché l'ho comprata, non ricordo più nemmeno quanti anni fa, ma quando è che siamo, sono andata, ma saranno passati 15 anni, adesso, sì, forse 15 anni. Vabbè Giulia era piccola, andava ancora alle medie, per cui sì, sicuramente sono passati tutti quegli anni, e in pratica abbiamo passato dieci giorni, invitata da una mia, da una mia amica, la cui figlia è nata, oltretutto, è esatto, Giulia è nata il 10 di gennaio, invece la figlia di questa mia amica è nata l'11 gennaio, ci siamo conosciute in ospedale, non ci eravamo mai conosciute prima, anche se eravamo, anche se siamo dello stesso paese, però da lì in poi siamo diventate, siamo diventate amiche. Non ci vediamo molto spesso perché, un po' per impegni di lavoro, eccetera, eccetera, però, ecco, ogni tanto ci sentiamo al telefono, e lei è sposata con un pugliese, e hanno la casa, hanno la casa, hanno la casa in Puglia, e lei tutti a giugno si faceva una decina di giorni con la figlia in vacanza, e mi ha chiesto se volevo andare con lei e con Giulia, cioè io e Giulia, se volevamo andare e passare questi dieci giorni con lei, e io ovviamente ho accettato, abbiamo passato dei giorni bellissimi, spensierati, abbiamo fatto un sacco di risate, ho visto dei posti favolosi perché siamo andati in provincia di Otranto, abbiamo visitato Otranto e i dintorni mi ha portato a visitare tantissimi posti, e devo dire che la Puglia è davvero stupenda, bellissima. E siamo state anche a... dove ho comprato questa? Penso a Lecce, adesso non ricordo, comunque in una... sì a Lecce, oddio non mi ricordo, è passato talmente tanto tempo, e ho visto questa borsa un po' particolare, mi è piaciuta e niente, l'ho acquistata, eccola qua, è di raffia, sì, sembra raffia, non lo so, comunque ecco è molto carina, assolutamente estiva, assolutamente estiva, e niente, mi è piaciuta un sacco, si è un po', si è un pochino, ha qualche filettino qua, è lama, poverina, ha un sacco di anni, e mi dispiace, la uso, la uso, non la uso tantissimo, però non lo so, sono quelle cose che... dalle quali non riesco a distaccarmi, e niente, è foderata anche questa, ha anche questa la cerniera per chiuderla, e ha anche questa una taschina interna, è bella, mi piace moltissimo, è veramente molto carina, è molto particolare, erano tipo le borse... cos'erano queste negli anni settanta che c'erano le borse con i manici ad anello? Niente, questa è una delle mie borse estive. Queste, le altre borse, vediamo un po', sì, alle altre due borse sono invece, le ho acquistate, le ho acquistate io, e sono delle borse di Carpisa, io ho trovato sempre delle cose carine da Carpisa, non hanno dei prezzi, dei prezzi esorbitanti, e anzi queste oltretutto le ho trovate all'outlet, per cui le ho pagate, se non ricordo male, le ho pagate la metà, ma è passato anche questo, sono veramente tanti anni che ho acquistato anche queste borse, e una soprattutto quella che vi faccio vedere adesso, l'ho stra usata, infatti è anche un po' rovinata, ma anche questa, questa qui, finché non cade completamente a pezzi, non la lascerò, ed eccola qua, eccola qua questa tracollina, la tracollina con appunto la, la sua tracolla, semplicissima, semplicissima, al bottone, si apre col bottone, e sempre i soliti sacchettini, ed è semplicissima anche all'interno, non c'è, c'è una taschina solamente, ha la cerniera per chiuderla, ha questo, ha questo, questo pendaglio con il, con il simbolo di Carpisa, eccolo qua, la tartarughina, e basta, questa la uso, la stra uso, infatti è abbastanza, adesso l'ho un po', un po' ripulita, essendo bianca poi, in un attimo si sporca, però ecco, è bella, è una di quelle borse che farò fatica a lasciare indietro, ma per ora, vabbè, finché va, la adopero. Unico neo, ecco che dovrò ricordarmi in futuro, quando acquisterò delle borse nuove, è non acquistarle con il bottone così a pressione, perché si nota, sì, si nota un po', non è sporco, ma si è rovinata, si è un po' rovinata la pelle, l'ho anche pulita, perché comunque un po' si sporca, perché ovviamente con, con le mani, però ecco, si è un po' rovinata la pelle dove, dove si schiaccia, comunque dove, dove c'è il, dove c'è il bottone, ecco, questo dovrò, nelle prossime borse, sicuramente, le prossime borse che acquisterò sicuramente non saranno fatte in questo modo, anche se devo dire che è comoda, ma magari con la, con la patella, è come si chiama questa qua davanti, ma senza, senza il bottone. E è la seconda borsa di Carpisa, invece, è fatta completamente diversa, è una, adesso vediamo se riesco a mostrarvela, perché ho tolto i sacchetti prima all'interno, si è un po', si è un po' schiacciata, eccola qua, questa invece è in beige, sempre anche questa di pelle, sono, credo, le ultime borse di pelle che ho acquistato, ma è passato davvero, sono passati davvero diversi anni. E anche questa con i due manici, molto, questa molto classica, però secondo me molto, molto carina, ha questa apertura particolare, basta girare, e anche questo c'è il, il singolo Carpisa, eccolo qua, si specchia il cellulare, ma va bene, si apre così, e anche questa è molto carina all'interno, perché non è foderata, questa non è foderata, però ha questo, questa cosa che oltretutto non divide la borsa, perché è volante, non è, non divide la borsa a metà, però ha una, vediamo se dietro, ha un'altra tasca, però senza cerniera, eccola qua, ecco qua, e una volta chiusa, adesso si è un po' svuotata, avevo qui dentro, ecco qua, vediamo se riesco a farvela vedere un pochino più, è molto carina, a me piace molto, anche, anche la, anche la, la chiusura così è molto, è molto carina, e ha questo, questo altro pezzo di, 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 questo pezzo di pelle, il manico che è un po', come si dice, il manico lo hanno lasciato un pochino più lungo per dare questo abbellimento, ecco, perché alla fine è molto, è molto semplice, carina anche questa, questa che vi mostro non è una borsa prettamente estiva, diciamo che questa va bene in ogni stagione, perché è una borsa da cerimonia, non credo di avervela mostrata nell'altro video delle borse invernali, non mi ricordo, però mi sembra di no, comunque ve la faccio vedere, è una, una pochettina molto, molto piccola, molto carina, tutta fatta di, di paillettes e perline, è tutta ricamata con le paillettes e le perline, le perline sono anche tutte intorno, e anche qua dietro sono, vedete, ci sono tutte, richiamano un po' le perline, anche qua, anche qua intorno, vedete, ci sono tutte, è tutta, è tutta rifinita con le perline, e anche i manici, anzi è un manico solo, sì è un manico solo, perché poi alla fine è intrecciato, è fatto di, di perline, e all'interno praticamente, sì, è piccolissima, ha comunque questa taschina, ed è piccolissima, si chiude con, si chiude anche questa con la, con la cerniera, e io questa l'ho usata, è tantissimi anni che ce l'ho, non ricordo quanti anni che la ho, però ecco per le cerimonie, io la trovo sempre, la trovo sempre molto, molto azzeccata, mi piace molto, ecco. Ed ecco qua, queste erano tutte le mie, le mie borse estive, spero di avervi fatto un pochino di compagnia con questo video, grazie per essere rimaste fino qui con me, vi mando come sempre un bacione grandissimo, e ci vediamo al prossimo video, ciao!